Orrore. Parola che sostanzia la propria esistenza di anormalità e di atrocità, ma più di questo di una ghiacciante e terrificante sensazione di paura. Questa sensazione è così illogorante da corrompere l'anima dell'individuo portandola alla più cieca delle pazzie, distruggendo il suo spirito e inducendolo al collasso. Grazie a tutti.